benvenuti sul mio canale io sono rosa parlato e oggi rilassiamo insieme la borsa olimpia questa borsa è stata realizzata col cordino swan black grigio perla della filati tre sfere lavoreremo il manico tubolare di cui vi metto nel box informazioni link del tutorial le perline vedete faciliteranno la chiusura sacco della borsa inoltre vado anche a foderare l'interno vedete con un foglio di filtro anche questo lo trovate sul sito web di filati tre sfere la lavorazione non è complicata ma veramente di grande effetto detto questo passiamo al tutorial allora ragazzi per il mio tutorial io vado a mettere su 41 catenelle che corrispondono in centimetri a 27 centimetri ok con uncinetto 3,5 cordino swan black a questo punto vedete io conto 1 2 e 3 filo sull'uncinetto e sulla quarta vedete catenella quindi 123 sulla quarta lavoro una maglia alta ovviamente se volete un fondo più largo quindi una lunghezza maggiore dovete mettere su più catenelle adesso filo sull'uncinetto e in ogni foro vedete entro semplicemente e lavoro una maglia alta quindi ma gli altri vedete in ogni punto lavoriamo le nostre maglie alti fino ad arrivare alla fine della nostra catenella quando arriviamo vedete nell'ultimo punto dobbiamo andare a realizzare delle maglie alte per girare quindi degli aumenti filo sull'uncinetto e lavoro la prima maglia alta filo sull'uncinetto lavoro la seconda vedete nello stesso punto filo sull'uncinetto lavoro la terza maglia alta sempre nello stesso punto ed una quarta maglia alta sempre nello stesso punto quindi abbiamo uno due tre e quattro punti che sono il nostro aumento quindi io vado a mettere vedete sulla prima un marca punti e faccio lo stesso sull'ultima quindi 123 e sulla quarta vado a mettere un marca punti adesso filo sull'uncinetto in ogni punto vedete frontale alla nostra maia alti entriamo e lavoriamo nelle maglie alte quindi uno di nuovo vedete frontale abbiamo lo spazio filo sull'uncinetto entriamo nel prossimo quindi andate a proseguire una maglia alta in ogni spazio vedete frontale all'altra maia alta fino ad arrivare nell'ultimo punto quando arrivo vedete alla fine della lavorazione io a questo punto dove in realtà ho iniziato vedete le 3 catenelle quindi l'inizio del lavoro filo sull'uncinetto entro all'interno e anche qui lavoro 4 mai alte quindi lavoro la prima dove metto il marca punti per ricordarmi che questa è la prima maglia alta dell'aumento lavoro la seconda lavoro una terza il lavoro una quarta adesso vedete quella che praticamente ho lavorato quindi la catenella io non vado a chiudere sulla catenella ma sulla prima vedete maglia alta quindi quelle che sono le 3 catenelle mi aiuteranno a girare semplicemente il lavoro entro qui e la maglia bassissima in questa maniera qui così riusciamo a fare l'archetto vedete uguale da quest'altro lato quindi dobbiamo cercare di centrare gli aumenti al centro vedete in questa maniera qui quindi qui vado a mettere un marca punti 1 2 3 e 4 su quello che è l'aumento dobbiamo mettere il marca punti 1 2 3 e 4 quindi qua andiamo a mettere il nostro marca punti in questa maniera qui adesso 1 2 catenelle in ogni punto dobbiamo semplicemente lavorare delle maglie alte quindi io entro in questo è il primo punto che ho lavorato entro nel prossimo e lavoro una maglia alta di nuovo filo sull'uncinetto nel prossimo una maglia alta quindi andiamo a proseguire lavorando mai alti in ogni punto fino ad arrivare dove abbiamo il primo marca punti quando arrivo vedete altri un marca punti lo tolgo e all'interno lavoro 2 maglie alte quindi lavoro la prima maglia alta e rimetto il marca punti per individuare dove ho gli aumenti filo sull'uncinetto e lavoro la seconda maglia alta vedete nello stesso punto la seconda maglia alta sul prossimo punto di nuovo 2 maglie alte quindi la prima e la seconda di nuovo nel prossimo 2 maglie alte quindi 1 e 2 e dove lo vedete il punti vado a lavorare le ultime due maglie basse alte scusate 1 e 2 ma gli altri adesso su questo punto rimettiamo in marca punti per individuare dove abbiamo realizzato i nostri aumenti adesso filo sull'uncinetto e in ogni punto vedete che segue lavoriamo una sola maglia in dentro all'interno prendo le due a sole e lavoro una maglia alta filo sull'uncinetto nel prossimo sempre prendo due asole lavoro un'altra maglia alta e di nuovo così fino alla fine dove abbiamo l'altro marca punti andate a proseguire a mai alta quando arriviamo vedete dove abbiamo il marca punti semplicemente lo togliamo filo sull'uncinetto anche qui entriamo e lavoriamo due maglie alte quindi lavoro la prima maglia alta e metto il marca punti anche se non aumentiamo più io ho comunque lasciato i marca punti per andare poi a decidere come dobbiamo lavorare le maglie quindi la lavorazione alternata entro di nuovo vedete dove ho lavorato una maglia alta lavoro un'altra maglia alta quindi due maglie alte nei prossimi tre punti entro lavoro un'altra maglia alta e ancora un'altra vedete nello stesso punto di nuovo nel prossimo lavoro e in questo ultimo punto vedete tolgo il marca punti e lavoro altre due maglie alte un altro mai alta e un'altra maglia alta e qui vado a mettere il marca punti adesso guardate qui ho praticamente le due catenelle quindi entro e lavoro una maglia bassissima per chiudere la lavorazione sulla seconda catenella in questa maniera qui ovviamente andiamo a sistemare nelle mani il nostro fondo in modo da vedere vedete andare a centrale così gli aumenti come facciamo anche di qua vedete dobbiamo andare a sistemare bene nelle mani la lavorazione fatto questo io non voglio un fondo molto grande quindi a questo punto mi fermo e vado già a tagliare la forma per la mia fodera quindi visto che io voglio foderare con il feltro il mio fondo lo vado già a tagliare quindi vedete ha tagliato il fondo uguale alla mia base in modo che dopo quando non dovevo andare a foderare non ho difficoltà per la misura lo metto da parte adesso vedete io devo andare a contare i miei punti allora se non volete più aumentare andate a togliere i marca punti se invece volete un fondo più grande io nel box informazioni vi metto il link per lo schema per andare a continuare il fondo così insomma se non riuscite siete principianti non avete difficoltà io vado a togliere il mio i miei marca punti perché decido di non aumentare più quindi se non devo aumentare più non ho più bisogno di i miei marca punti adesso vedete andiamo a contare i nostri punti per dividere ovviamente sia sul davanti che sul dietro gli stessi punti adesso vedete una cosa da fare una volta che abbiamo deciso di non aumentare oppure aumentate poi terminate il vostro fondo dobbiamo centrare il punto vedete centrale sia a destra che a sinistra e andiamo a contare ovviamente i nostri punti io ho 90 maglie alte ok ho messo praticamente vedete il marca punti al centro dal marca punti in poi quindi contando dal punto subito dopo arrivando dall'altro lato al punto prima del marca punti o 44 maglie basse maglie alte scusate da quest'altro lato uguale da solo subito dopo il marca punti e subito dopo questo marca punti o 44 maglie alte quindi ho diviso 44 sul davanti e 44 sul dietro adesso vado a fare un giro di maglie alte senza realizzare nessun aumento perché ovviamente per la lavorazione ci servirà un bordino di maglie alte quindi lavoro 1 e 2 filo sull'uncinetto e all'interno vedete di ogni punto però in coste entro prendendo vedete la solina esterna vedete alla lavorazione e lavoro una maglia alta filo sull'uncinetto e faccio la stessa cosa vedete in ogni punto lavoro una maglia alta in coste vedete prendendo solo la solina esterna in ogni punto quindi vado a proseguire fino ad arrivare dove vedete questo marca punti che non andrò a toglierlo andrò a rimettere quindi vi faccio vedere andiamo a proseguire fino al marca punti quando arriviamo vedete quando arriviamo dove abbiamo il marzo punti semplicemente lo dobbiamo togliere lavorare la maglia alta quindi nessun aumento vedete all'interno io andiamo semplicemente a rimettere perché questo è il centro vedete abbiamo praticamente contato le maglie dobbiamo avere la misura esatta quindi lo vado semplicemente a rimettere filo sull'uncinetto entro vedete in ogni punto sempre prendendo la solina esterno e lavorando le maglie alte quindi andiamo a proseguire fino ad arrivare dove abbiamo la fine vedete della lavorazione quando arriviamo dove abbiamo il marcaponte lo dobbiamo rimettere arrivo vedete nell'ultimo punto dove ho lavorato le due catenelle sulla seconda catenella vado a chiudere la mia lavorazione a maglia bassissima in questa maniera qui adesso vedete la nostra borsa inizia vedete a salire già adesso dobbiamo andare a dividere praticamente i punti per iniziare la nostra lavorazione tra le maglie ba le maglie alte a rilevo e le maglie alte semplici allora iniziamo in questa maniera qui noi dove abbiamo vedete che stiamo lavorando quindi il lato dove abbiamo la lavorazione abbiamo il marca punti quindi contiamo 1 2 3 4 e 5 qui verranno realizzate delle maglie alte semplici quindi lavoriamo le prime due catenelle che saranno praticamente il completo delle cinque maglie alte semplici adesso dobbiamo andare a lavorare già cinque maglie alte rilievo davanti quindi filo sull'uncinetto qui o vedete già la lavorazione entro in quello dopo entro da dietro guardate esco sul davanti prendo il mio filo e lavoro la prima maglia alta in rilievo filo sull'uncinetto entro nella seconda vedete sempre da dietro esco sul davanti quindi attraverso da dietro la maglia alta e la bocca la seconda maglia alta in rilievo filo sull'uncinetto entro all'interno sempre da dietro vedete attraverso la maglia alta e lavoro la terza maglia alta rilievo li dobbiamo lavorare un totale di cinque quindi 1 2 3 4 e cinque maglia alta vedete il rilievo ed ecco come si presenta vedete la lavorazione adesso non dobbiamo fare altro fino ad arrivare al marca punti di alternare cinque maglie alte rilievo e cinque maglie alte semplici quindi questa vedete quella è il rilievo nella prossima entro e lavoro una maglia alta semplice ne lavorerò 5 in totale quindi 1 2 3 4 e 5 maglie alte semplici ed ecco vedete come il risultato a prima vista adesso alterniamo di nuovo cinque maglie alte però il rilievo davanti quindi qui vedete dove dove entrare ma io entro sul davanti quindi il rilievo quindi entro sul davanti attraverso da dietro la maglia alta e di nuovo lavoro una maglia alta e rilievo quindi uno di nuovo la seconda 2 3 4 5 ma gli altri rilievo ed ecco vedete come viene l'alternanza della lavorazione adesso andate a proseguire in questa maniera qui qui abbiamo fatto le cinque ma gli altri rilievo cinque maglie alte semplici cinque ma gli altri rilievo cinque semplici fino ad arrivare al marca punti ho quasi completato vedete la sequenza ma adesso arrivo qui dove quasi marca punti ho lavorato di cinque maglie alte il rilievo o vedete la prossimo 1 2 3 4 e 5 vedete prima del marca punti quindi 1 2 3 4 e 5 mai alte adesso io la lavorazione così arrivo voglio farla solo sul davanti della borsa questo facilità e faciliterà insomma un po le principianti perché così non si vanno a confondere facendo troppi troppi diciamo cambi di lavorazione quindi io da adesso in poi dovrò lavorare per tutto il restante della borsa fino ad arrivare chiaramente al punto dove qui vedete ho iniziato a maglia alta quindi semplicemente vedete tolgo il marca punti che non ho più bisogno di rimettere e vado a lavorare la maglia alta adesso vedete in ogni punto con la maglia alta se volete anche fare sul retro della borsa la stessa lavorazione semplicemente quando ho contato le cinque maglie alte dovete fare altre cinque mai alte ricominciare la sequenza quindi qui al centro ci dovranno essere vedete nei centri della borsa soltanto maglie alte quindi adesso vado a proseguire vedete a maglia alta in ogni punto semplicemente solo maglia alta fino ad arrivare vedete dove ho praticamente il marca punti arrivo vedete dove ho il marca punti lo tolgo e adesso non necessito più di rimetterlo quindi vado a toglierlo del tutto filo se l'uncinetto entra all'interno del punto e lavoro le maglie alte maglie alte fino ad arrivare dove abbiamo la lavorazione vedete delle maglie arrivo quindi ancora filo se l'uncinetto l'ultimo punto da lavorare a mai alta qui vedete abbiamo le due catenelle qui lavoreremo sempre le due catenelle ovviamente quindi entra all'interno e lavoro le due catenelle con questa maniera qui ecco qua 1 e 2 filo sull'uncinetto adesso vedete qui abbiamo le cinque maglie alte arrivo quindi 1 2 3 4 e 5 filo sull'uncinetto e di nuovo lavoriamo cinque maglie alte arrivo quindi vedete io sul davanti entro sul dietro attraverso la maglia alta e lavoro la maglia alta in rilevo quindi lavoro la prima filo sull'uncinetto entro all'interno e lavoro la seconda però vedete entro attraverso in questa maniera qui e lavoro la terza ancora o altre due filo sull'uncinetto di nuovo vedete sul davanti attraverso da dietro così esco sul davanti che lavoro la quarta filo sull'uncinetto e lavoro l'ultima quindi la quinta maglia alta in rilevo ed ecco vedete che abbiamo lavorato le nostre 1 2 3 4 e 5 questa invece sarà la catenella dove chiuderemo sempre il lavoro adesso dobbiamo andare a proseguire qui abbiamo lavorato vedete la maglia alta in rilevo qui abbiamo le cinque maglie alte vedete 1 2 3 4 e 5 contate per non saltare questa che magari troppo sottostante a quelle di rilevo entriamo vedete prendendo le due asole e lavoriamo la maglia alta semplice quindi 1 2 3 4 e 5 vedete maglie alte semplici adesso abbiamo di nuovo vedete le cinque maglie alte rilevo 1 2 3 4 e 5 filo sull'uncinetto dobbiamo entrare sempre vedete sul davanti attraversiamo sul dietro la maglia alta usciamo sul davanti e di nuovo maglia alta e lavoriamo tutti e 5 vedete le maglie alte per il lavoro un po più velocemente visto che adesso avete sicuramente capito il procedimento 3 4 e 5 ed ecco vedete come il lavoro prende forma ok ecco qua quindi queste saranno a rilevo alternate da quelle semplici adesso dobbiamo andare a proseguire qui abbiamo lavorato quella rilevo qui lavoriamo le cinque vedete qui inizia quella rilevo 1 2 3 4 e 5 quindi entriamo vedete nella prima e lavoriamo 5 mai alte semplici quindi entriamo semplicemente vedete nella solina e le lavori a 2 3 4 e 5 ed ecco qui adesso andiamo a proseguire vedete qui abbiamo di nuovo le maglie alte rilevo quindi maglie semplici ma gli altri arrivano e poi iniziamo di nuovo la lavorazione a maglia alta fino ad arrivare dove dobbiamo chiudere quando arriviamo vedete sulla parte dove abbiamo la seconda catenella chiudiamo sempre alla stessa maniera maia bassissima e 1 e 2 catenelle di nuovo adesso vedete abbiamo subito i cinque punti a rilievo quindi 1 2 3 4 e 5 filo sull'uncinetto entro vedete come vi ho fatto già vedere sul davanti passo vedete sul dietro attraverso la maglia alta e lavora mai alta il rilevo la prima il rilevo e poi andiamo lavorato le altre quattro quindi la seconda la quattro è la quattro è la quinta maia alte rilevo allora vedete bene guardate qui c'è quella semplice quindi quando noi l'attraversiamo possiamo confonderci pensare che non vada lavorata invece vedete questa va lavorata quindi filo sull'uncinetto iniziamo le cinque maglie semplici quindi entro prendendo entrambe vedete le aso e lavoro la prima maia alta semplice di nuovo lavoro la seconda la terza la quarta e la quinta vedete maglia semplice ed ecco qui vedete che la lavorazione sale quelle rilievo vedete si distingue bene da quelle semplici adesso semplicemente andiamo a proseguire lavorato sempre le cinque maglie alte a rilievo 5 semplici 5 rilievo 5 semplici 5 rilievo e poi iniziamo con le maglie alte fino a chiudere praticamente dove abbiamo le due catenelle adesso voi dovete andare a proseguire per un tot di righe sempre alla stessa maniera quindi noi andiamo a proseguire alla stessa maniera io vado a proseguire e poi vi dico quante righe totali ho realizzato allora ragazzi io ho proseguito per un totale di 20 righe in altezza che in centimetri sono circa 24 cm adesso come potete vedere la parte davanti e leggermente tende un po a tirare è normale non vi preoccupate basta che stendiamo un po il lavoro perché il cordino ovviamente rispetto ad altri tessuti tira un po ma questo non inciderà sulla lavorazione adesso vedete dopo aver fatto questo io mi trovo in questa maniera qui quindi ho chiuso vedete dove ho la lavorazione e adesso vado a lavorare sempre le mie due catenelle per adesso vado a lavorare una maglia alta in ogni maglia alta quindi qui vedete ho la maglia alta rilevo entro all'interno e lavoro una maglia alta semplice entro vedete nel prossimo e lavoro una maglia alta semplice e vado a lavorare una maglia alta su ogni punto quindi lavorerò sia dove ho le maglie alte rilevo ma anche dove le maglie alte semplici quindi un giro di mai alta completo fino ad arrivare alle due catenelle quando arrivo vedete nell'ultimo punto sulla seconda catenella chiudo a maglia bassissima adesso dobbiamo andare a proseguire lavorando sempre le due catenelle e dei giri di maglia alta quindi filo sull'uncinetto scusate e su ogni punto lavoreremo delle maglie alte io adesso vado a completare dei giri di maglia alti poi vi dirò in totale quante righe ho realizzato quando arrivo vedete nell'ultimo punto che ho lavorato quindi ho lavorato vedete l'ultima maglia alta ora volato un totale di uno due tre e quattro righe vedete subito dopo la lavorazione delle maglie il rilevo alternati a quelle semplice io lavoro uno due tre e quattro righe a maglia alta che in centimetri sono circa 6 cm adesso prima di chiudere vedete io vado a sfilare in questa maniera il filo uso un ago a punta tonda entro vedete nella seconda catenella quindi andiamo a controllare bene bene per chiudere vedete qui c'è la se la prima catenella qui c'è la seconda io entro nella terza che in realtà non è la terza catenella mai la maglia alta vedete questa qui entro così e vado a chiudere la mia lavorazione quindi entro in questa maniera qui poi mi porto vedete al centro qui in questa maniera ho realizzato e dite il punto che adesso andiamo all'interno della lavorazione e nascondiamo di nuovo vedete all'interno tagliamo e saldiamo ovviamente con l'accendino adesso andiamo a realizzare una coppia di manici tubolari allora io per questi manici vi metto il link del tutorial nel box informazioni ma vi metto anche la scheda che adesso passa vedete sopra e anche alla fine del tutorial in modo che dopo quando volete realizzare questi manici semplicemente andate a vedere il tutorial la differenza con il tutorial che ho lavorato in coste e quindi vedete ho formato questa treccina questa è la differenza nel tutorial invece faccio la maglia bassa semplice quindi se volete che si veda questa treccina basta lavorare in costa andiamo quindi a posizionare i nostri manici vado a posizionare vedete i marca punti in modo che i manici vengano centrati questa su questa parte vedete sulle maglie alte semplici al centro tra la prima vedete la seconda quindi al centro in questa maniera che faccio lo stesso anche qui vado a centrare vedete il marca punti al centro e vado a cucire i miei marca i miei manici quindi vedete dove ho il marca punti inizio la costitura tolgo il marca punti qui ho lasciato vedete un po di filo inizio semplicemente a cucire in questa maniera qui il prossimo in questa maniera e vado a cucire nel prossimo e vado vedete a cucire quindi vado a fissare bene bene questa parte quindi il mio manico vedete in questa maniera qui quando lo andiamo a girare questo è il mio risultato passo più volte vedete per stringere bene la lavorazione soprattutto per assicurarmi che il manico sia fissato bene alla borsa anche per fissare questo manico io ho realizzato un tutorial un tutorial dove vi spiego un modo alternativo a questo che sto facendo vedere per farvi vedere come fissarlo fatto questo vedete anche qui andiamo a nascondere il nostro filo all'interno della lavorazione e anche questo filo lo saldiamo sempre con con l'accendino tagliamo e andiamo a saldare con l'accendino quindi vado a cucire anche questo manico e facciamo la stessa cosa vedete con l'altro manico centriamo la parte precisa dall'altro lato e andiamo a cucire alla stessa maniera una volta vedete che ho fissato i miei manici e la borsa questo sarà il risultato adesso taglio tre fili da un metro e li vado ad inserire vedete all'interno di un ago e vado a creare chiaramente la mia chiusura come faccio inizio vedete dal lato e inizio sulla prima riga delle nostre maglie alte dove abbiamo vedete iniziato subito dopo il punto a rio quindi su questa riga qua vedete nel centro o quasi al centro entro così vedete sono così entro qua due maglie basse le maglie alte scusate sopra poi passo sopra e poi passo sotto in questa maniera qui e lascio chiaramente un po di filo più abbondante nei lati di nuovo sono qui due maglie alte vedete sopra ne passo due sotto e due sopra dove sotto e due sopra in questa maniera qui e fuoriesco così uguale anche qui vedete due sopra due da sotto due sopra due da sotto è così io sto usando una tonalità più scura di grigio vedete per la chiusura però chiaramente voi potete usare anche tono sul tono ci vado a proseguire vedete in questa maniera qui vado a proseguire fino ad arrivare ovviamente fino ad arrivare ovviamente dall'altro lato quindi vedete ancora due così 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 e due così e giriamo la nostra borsa e andiamo a proseguire due sopra così così e e così quindi sulla stessa riga è così fino ad arrivare vedete quasi dove abbiamo iniziato quando arriviamo vedete dove abbiamo quasi iniziato semplicemente lasciamo così perché dopo andiamo a sistemare adesso vado a travagliare tagliare altri tre fili della stessa lunghezza una volta vedete che ho infilato gli altri tre fili adesso inizio dalla parte opposta quindi dove vedete qui dove inizio qui quindi possiamo usare anche gli stessi punti quindi entrare vedete nelle stesse dove abbiamo già praticamente passato l'altro filo lasciamo sempre un po di filo e adesso facciamo la stessa cosa vedete così e così ovviamente facendo attenzione non tirare gli altri fili poi sistemiamo e andiamo a proseguire e adesso dove abbiamo vedete che qua fuoriescono e dobbiamo andare a proseguire ovviamente quindi vedete andiamo a proseguire faccio così e vado a proseguire e cosa vedete fino ad arrivare dove ho iniziato quando arrivo vedete dove ho iniziato ovviamente tolgo l'ago che vado a infilare una perlino a perla con un foro abbastanza grande i primi tre vedete sono facili da infilare attraverso il fuoco entreranno senza difficoltà gli altri tre ovviamente li andiamo ci andiamo ad aiutare con un uncinetto quindi io con l'uncinetto infilo all'interno vedete del foro e tiro poi ad un filo alla volta in modo che possa infilare vedete tutti i fili all'interno della perlina quindi mi vado ad aiutare fino ad infilare anche gli altri due una volta vedete che abbiamo infilato i nostri figli all'interno della perlina vado a fare un nodino alla estremità vedete faccio un nodino all'estremità in questa maniera qui di ogni figlio tagliamo e andiamo a saltare con un po di accendita facciamo questo perché vedete anche se dovesse scivolare la perlina vedete ma non può scappare ecco quindi anche quando andiamo a chiudere dietro non abbiamo nessuna difficoltà andiamo a fare ovviamente la stessa cosa vedete anche da quest'altro lato una volta quindi che abbiamo completato vedete quando andiamo a tirare la nostra chiesa sarà perfetta e quindi la nostra borsa è pronta io ho anche foderato vedete l'interno della borsa con un foglio di feltro questo perché così quando andremo a mettere le cose all'interno siamo sicuri che non slabbra e il nostro fondo vedete è bello perfetto in questa maniera qui io spero che il tutorial vi sia piaciuto se vi fa piacere condividere con me le vostre creazioni iscrivetevi al gruppo facebook le amiche di rosa parlato youtube così potete farmi vedere i vostri lavori io vi saluto e vi rimando a uno dei miei prossimi tutorial grazie 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 grazie